La Camera di Commercio di Teramo è uno dei 13 enti a livello nazionale che ha ricevuto un premio prestigioso per quanto riguarda la trasparenza e l'etica. È una delle 13 pubbliche amministrazioni in Italia che ha ricevuto questo premio, l'unica Camera di Commercio, che è stata individuata da un apposito comitato, l'Associazione Italiana Digital Revolution, che su una base di una serie di parametri ha stabilito che questi enti si sono distinti per trasparenza e per legalità. Diciamo che è un premio inaspettato, fondamentalmente anche molto ambito, per il quale mi sento di ringraziare tutti i collaboratori che fanno parte del gruppo di lavoro e che quotidianamente procedono al controllo di tutte le procedure amministrative e nello stesso tempo tutto il personale, perché tutto il personale poi non fa altro che applicare queste regole, e questi percorsi che ci hanno contraddistinto. Quali parametri sono stati presi in considerazione per l'assegnazione di questo prestigioso premio? Allora, i parametri sono il rispetto dell'attività di pubblicazione di tutti gli atti amministrativi, quindi articolo 33 del decreto legislativo 2010, gli affidamenti diretti che sono stati posti in essere da questa pubblica amministrazione, l'attività di consulenza e da ultimo la tempestività dei pagamenti. In questi parametri siamo risultati migliori e per questo saremo premiati mercoledì dalla Presidenza della Repubblica alla presenza delle più alte cariche dello Stato. È un riconoscimento molto importante perché premia il lavoro di squadra innanzitutto, premia la sensibilità di ciascuno e di tutti e l'etica della responsabilità. È un premio naturalmente all'aderenza al dettato normativo che l'organo indipendente di valutazione che rappresento monitora costantemente. La trasparenza vuol dire avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini, vuol dire dare pari opportunità e rendere effettivo il principio costituzionale di uguaglianza.